Le imprese chiamano, ma le banche non rispondono, almeno nel 70% dei casi, è quanto evidenzia un'indagine interna condotta dalle Confindustria di Chieti e Pescara sulla moratoria dei mutui. Le PMI incontrano le maggiori difficoltà sul fronte del credito e questa sicuramente non è una novità. Stavolta in particolare si mette in luce il ritardo con cui le banche applicano l'accordo nazionale sottoscritto 5 mesi fa, lo scorso 28 febbraio, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria Italiana, ABI e le rappresentanze di impresa che prevede lo strumento della moratoria mutui. L'attesa supera abbondantemente i 30 giorni pattuiti fino a punte massime di 100 giorni. Solo il 30% delle stanze presentate risultano accettate con un tempo medio di risposta che supera nel 90% dei casi i 30 giorni stabiliti dall'accordo. Il presidente di Confindustria Chieti, Paolo Primavera. Di certo vogliamo andare avanti su questa situazione, chiameremo le banche a darci una spiegazione in merito a questo passaggio, ma non le nego che forse tireremo fuori anche una lista, sostanzialmente in quel 30% delle banche che hanno risposto, tireremo una lista delle banche che stanno rispondendo invece alla moratoria e faremo una gradatoria sulle banche che oggi si comportano correttamente, perlomeno rispettano quelle che sono delle indicazioni ben precise a livello nazionale, ma noi dobbiamo dare delle risposte perché altrimenti rischiamo che le aziende veramente non arrivano a fine anno. In questa situazione le banche devono capirla perché non possono da noi pretendere rigidità e rispetto delle regole, poi loro sono le prime a non rispettarle. Quindi vogliamo chiarezza, perlomeno che ci sia un tavolo di confronto, vediamo un attimo su come converge, ma di certo quella moratoria va sostenuta e più che altro vanno salvaguardate le aziende, altrimenti rischiamo veramente di creare un'involuzione all'interno del sistema economico e rischiamo di far perdere veramente migliaia di posti di lavoro.